Musica Allora, ci dovevamo mangiare sulla schiaggettina Una bellissima pizzeria napoletana che si chiama Ristorante Pizzeria del Pizzaiolo Stavo pregendo il nome proprio qui a San Tropez Economica, ragazzi, economica buonissima E vi trovate sulla spiaggia senza nessun tipo di problema Senza nessun tipo di personaggi che parlano delle loro barche, dei loro palazzi, dei loro gioielli e compagno Un bell'entrata Semplice come siamo noi A più tardi E ci stiamo mangiando là, che cos'è? Per il tè E' davvero buon Ovviamente molto simpatico E poi la nostra insalatina di verdure Tataaa E' la pizza La nostra pizza Buon appetito Buon appetito Molto semplice, molto simpatica Bella pizza E' questo qua che è molto saporito il piatto del giorno Ok, a fruttarvi E da qui ammirate anche questo è bellissima in barcazio Centinaia milioni di euro Ma che tardi Ragazzi, questo è uno spuntino in camera Salata e domate, quindi a ragosta A tischio bariculo Salata e domate Ok, domate e mozzarella Caffè e compagnia A più tardi Sive*** A più tardi Je pii excessive Grazie a tutti.